Entriamo nell'ambito del divario digitale che deriva le PA italiane dal combiano disposto di popolazione con età media molto avanzata, mancato ricambio ultraventennale, se anche ci fosse stato non avrebbero preso informatici, ma comunque diciamo non c'è stato, scarsa competenza digitale nella popolazione in quanto tale, l'indicatore, io ho una scarsissima fiducia degli indicatori desi, chiamare mille persone e chiedere al telefono cosa fanno, sì, sarà interessante, diciamo, la scienza è un'altra cosa, diciamo ma so 20.000, sì, siamo sempre a chiamare al telefono qualcuno, non sono quegli indicatori veri, alcuni sono strutturali, la penetrazione di home banking nelle famiglie italiane o l'utilizzo di altri strumenti che in qualche modo sono una proxy sensata sulle competenze digitali non ci vedono in cima, qualunque tipo di soluzione anche a problemi complessi degli ultimi giorni fatti anche da autorevoli pensatori non vanno verso la direzione di troviamo una soluzione in cui in qualche modo la capacità innovativa del paese sia visibile, capacità innovativa del paese che però è visibile dove deve essere visibile, quando negli anni 90 la Danimarca ha fatto il primo parco eolico con pale eoliche non messe come nella mia regione, la Calabria, che hanno rovinato tutte le colline e tutti i profili orografici, io faccio fotografia naturalistica, non posso più fare una foto di paesaggio perché fotografo delle pale, portino energia elettrica non lo so ma fotografo pale, in Danimarca le misero giustamente a qualche chilometro dalla costa basse, non si vedono dalla riva del mare, chi va a Copenaghen non le vede, secondo voi chi lavorò a fare quell'oggetto? Erano ditte danesi? Erano australiani? Erano italiani? Qua abbiamo degli amici, io ho degli amici, voi avete degli amici veneziani e non parliamo di quest'altra porcata, voi mi direte, ma di che state parlando? Sto dicendo che man mano che si sale di livello, non è che la competenza non c'è, come ho detto inizialmente, perché noi dipendenti pubblici siamo ultra cinquantenni, poveracci, anche dove non sono gli ultra cinquantenni e sono il più alto livello, la competenza comunque non c'è e questa è una grave tara del paese. Vediamo però se l'universo mondo dell'APA, che fortunatamente ha un numero di persone, è finito il limitato, 3.2 milioni, 3.3, aggiungo alla nota precedente, in Francia voi sapete quanti sono i dipendenti pubblici? Chi lo salzi la mano e lo dica. Prego? Ma più quanti? Bravo, lo dico in numero perché sennò andiamo a fare una... Allora, in Italia con i criteri francesi i dipendenti pubblici non sono 3.2 ma sono 3.6 milioni, sono contento, in Francia sono 5.5, la popolazione è identica, 60 milioni in entrambi i casi. Quindi o noi siamo molto bravi, o loro sono molto grossi, oppure c'è un problema, ma è solo la Francia, così no, anche la Spagna ha un numero di dipendenti pubblici per mille abitanti molto superiore a quello italiano. L'unico paese che c'è vicino è la Germania, però i lander ci portano in una situazione istituzionale un po' complicata, anche in UK dove Thatcher ha fatto delle ottime o non ottime operazioni negli anni 80, il numero di eventi pubblici lato senso è maggiore che in Italia. Quindi noi abbiamo popolazione anziana, pochi. In un mondo normale, se io fossi uno che fa assessment, mi chiamano da Marte e mi dicono guardi, le presento questa organizzazione molto complessa, la PA italiana, le altre europee sono queste, questi sono i numeri, questi sono i soldi, questo è il personale dipendente. L'unico modo per uscire ne sarebbe, se io fossi un vero consulta, direi bene, se la PA italiana si può permettere un terzo di dipendenti per mille abitanti in meno di Spagna e Francia, vuol dire che è investito sulle tecnologie, cioè non avendo forza lavoro, ha forza lavoro robotizzata, ha software, giusto? Cioè non è che ci sono terzium non datur. Se la stessa cosa fosse stata fatta nell'automotive 20 anni fa era la cosa identica. Io lavoravo in Inps, primi 90, il più grande pagatore di contributi italiano era Fiat, 120.000 operai e la sede più ricca d'Italia era Torino, perché tutta Fiat pagava Torino. Sapete quanti sono oggi i dipendenti Fiat? Un sesto, sono 20.000. Però Fiat non produce meno macchine, adesso non voglio parlare della qualità delle Fiat, non ci interessa. Perché? Perché ha sostituito, come in tutti i casi in cui c'è possibile, forza lavoro con robot. Stop, è banale. Nell'APA è caduto questo, cioè ne abbiamo meno dipendenti, o perché siamo cattivi o perché non abbiamo soldi, eccetera, però abbiamo investito sulle tecnologie e quindi facciamo le stesse cose meglio di prima, non mi pare. Allora, in questo quadro fosco, noi ci siamo permessi di immaginare che cosa? Prima che avranno effetto le ottime idee di finalmente riportiamo un po' di dipendenti nelle amministrazioni, assumendoli, non c'è altro modo, assumendoli bene. Però chi c'è è all'altezza di fare quello che dovrebbe fare? Secondo me no, secondo voi non lo so. Noi ci siamo quindi focalizzati su un punto molto particolare, ovvero consentire che ogni amministrativo, uso il termine informatico, quindi ho il razzismo degli informatici che chiama gli altri amministrativi. Senza offesa, non è razzismo, dicendo. Sono amministrativi, come dire, non capiscono nulla, nel caso bravissimi, però noi siamo laureati in informatica, in ingegneria, siamo quelli bravi. Allora, però sono il 96%, il 97% dei dipendenti pubblici sono amministrativi, ci sono tutti amministrativi, viva Dio, se è un'amministrazione che devono fare. E se non hanno dimestichezza elementare con gli strumenti, non per progettare, quello ci pensano i bravi, non per testare, sì forse, soltanto per usarli. Io faccio questo esempio che è stupidissimo, quando io entro in un appartamento che non conosco, stanza d'albergo, apro la porta e è al buio. Non è che devo aver studiato ingegneria delle costruzioni per sapere su per giù dove può essere l'interruttore della luce. E ho a destra, a sinistra, 1,20 d'altezza. Faccio così, lo trovo, giusto? Non devo aver studiato. Secondo voi, un vostro collega amministrativo elementare, mi date una mail e io gli faccio avere un P7M. Sa che cos'è? Così, snap. Pochi. Lo sa? Bene. E saprebbe protocollarlo? Sono bravi, dove lavorate voi? No, non mi dica abiliato al protocollo, sono tutti abiliati al protocollo. Io sto dicendo se hanno l'euristica elementare di sapere effetti, conseguenze giuridiche di, non che sapere cos'è. Scusate, ora, intanto il test lo faremo con voi, quindi saremo tranquilli. Boni, io vado in autostrada abbastanza, io non so che funziona intimamente il telepass, e non mi interessa perlo. Ho un'automobile, il cui computer di bordo mi ha avvertito l'altro giorno, in arancione, devi cambiare l'olio. Io non so nemmeno come si apre il cofano della macchina. Vabbè, cambierò sto cazzo, sto olio, non è necessario che io, con la sua fatta il motore per guidarla, ma so guidarla, so mettermi a bordo, mi si accende il motore, faccio il cambio automatico, quindi non lo uso. Quello che noi immaginiamo, sia che se non c'è un pochino di competenza diffusa elementare, tipo accendere la corrente, in tutti i dipendenti, qua parlo dei dipendenti bassi, dirigenti ci arriveremo non so quando, se ci arriveremo, ma non sono questi gli strumenti. Allora, il primo modo per capire se sanno è, facciamo un test. Quando io ho fatto la prima volta un corso di una lingua diversa dall'italiano, che parlo abbastanza, mi hanno detto, beh, prima di capire quanto ne sa, lei quanto ne sa di inglese? Non lo so, non l'ho mai studiato, ho fatto francese a scuola. Allora le sottopongo un test. Bravo. In fondo al test mi ha detto, sei quello che sei. E da lì continuo. Anche qua non sarebbe male. Cosa vogliamo fare? L'abbiamo fatto. Definire quali sono le competenze e abilità, le conoscenze e abilità che riteniamo debbano essere in possesso di un qualunque divenente pubblico. I cellulari spenti, che se no mi distraggo, o perlomeno silenziati. Poi fornire un sistema di autoverifica, un normale test. In fondo, eroghiamo formazione. Il sistema, in questo momento, si trova alla fase 2. Cioè abbiamo fatto 1, completato anche con consultazione pubblica, definito quindi il sillabus delle competenze, e abbiamo, siamo in produzione da, suppongo da stanotte, con il sistema di autoverifica. Non sto scherzando, siamo in produzione da stanotte. Io ieri ero alla camera a occuparmi di altro e i miei hanno fatto un ottimo lavoro. Ci stiamo lavorando sull'ultimo punto, su cui poi farò un approfondimento in fondo. Perché l'idea qual è? Che ogni dipendente pubblico deve poter entrare, fa il test, il sistema gli dice su ogni competenza, qua sei bravo, qua sei intermedio, qua sei avanzato, dove sei avanzato gli dice grazie, dove sei intermedio o base, gli propongo, vuoi fare una formazione online per migliorare questo aspetto? Se vuoi, è qua, clicca e baci. Gratuita, modello Amazon. Amazon fa pagare. Per i bravi di tecnologie, qua ce n'è più di uno, il sistema è multisillabus, cosa vuol dire? Può essere caricata con, in questo momento c'è un serie di domande su competenze digitali, domani potrebbe avere competenze di privacy, di cyber security, di quello che vi pare. ed è immaginato perché i sistemi che erogano a formazione, che noi non ospiteremo, esattamente come Amazon non ospita nei suoi, diciamo, sistemi prodotti che vende, li ospita qualcun altro, le fa intermediazione, tra me che compro e qualcuno che vende, e poi qualcuno ti porta a casa l'oggetto. Chi eroga formazione sarà, chi gli pare, faremo tra poco un bando per accreditare formatori di qualunque natura, pubblici e privati non ci interessa, purché rispondano e rispettino le categorie di conoscenze definite nel syllabus e stiamo provando a, con difficoltà, a utilizzare modelli di interoperabilità allo stato dell'arte, per gli informatici presenti per divertirci. Noi abbiamo proposto, ma abbiamo avuto pochissime risposte, per questo abbiamo ritardato la qualificazione dei formatori. Volevamo proporre un sistema in base al quale se la piattaforma di regolazione e formazione è della ditta Pippi e quindi il dipendente Gullo è entrato nel sistema, ha fatto il suo assessment, il suo agnale di competenza è base e medio avanzato e dove è base o è medio vorrebbe fare una formazione aggiuntiva. L'accordo con i formatori è, va bene, io ti passo quindi con federazione di identità l'identità di Gullo in modo che possa entrare sul tuo sistema, quando lui però ha finito il costo di formazione sulla parte in cui è basso, me lo fai rientrare nella piattaforma in modo che gli sottopongo il test per capire se è da base è diventato medio, per capire la tua efficacia. È elementare, è elementare, ci sono degli standard per fare questo, per poter addirittura seguire in che stadio della formazione si trovi qualcuno quando è fuori del mio sistema. Sono standard internazionali. L'ho chiesto a qualcuno di quelli che fanno questo di mestiere ma ho detto noi non ce l'abbiamo. Ok, quindi anche qua competenze digitali non soltanto gli amministrativi non ce l'hanno, ma nemmeno gli informatici bravi ce l'hanno. Non so come faremo, dovremmo fare qualche porcatina che poi vi dirò dopo. Allora, che cos'è? Definisce le conoscenze e abilità, serve per autoverificare come sei messo e poi fare corsi mirati. Noi offriremo un po' di formazione da banco gratis, ma se un'amministrazione usa questo per capire come sono con locali sullo personale e poi farsi un corso di formazione a cupertino con chi vuole è magnifico. Almeno sa di chi ha dentro e questo serve anche moltissimo a voi. E a chi si rivolge? Dipendenti. Fondamentalmente dipendenti normali e amministrativi. Lo farei fare anche i tecnici, ma non è fondamentale. Loro sbaglieranno molto. Per i patiti dei confronti, perché non avessato Digicom? Perché Digicom si spara su un altro target. Cittadini normali e noi non siamo cittadini normali, noi dipendenti pubblici. Noi utilizziamo degli strumenti al lavoro che non sono quelli che useremmo se fossimo a casa. Sistema di protocollo informatico, sistema di pagamenti, non esistono a casa equivalenze. Quindi rispondiamo a normativa di settore, per cui la competenza richiesta è un dipendente pubblico. A casa può essere pure un mostro di giocare a Fortnite 7. Non è importante quando sei bravo là dentro. Quando entri nella missione pubblica il lessico è cambiato. Se non sai usare quello, sei un nessuno. Io sono un paladino di questa banalità. Peraltro i livelli di IGCOMP sono assolutamente molto strutturati. Noi abbiamo pensato di limitarci a base intermedia avanzato. Facciamo prima girare il sistema. Vediamo qual è il suo livello di sensibilità o sensitività per gli amanti della fisica. Poi vediamo se occorre creare oltre a tre livelli altri 18. In questo momento io ritengo e avendone fatto tra l'altro menzione sia a livello UE che a livello OXA non c'è nessun paese che ha questo. Non lo considero un vanto sia chiaro. Non sono un sovranista di ritorno. Se una cosa la fa l'Italia non è che la fa l'Italia unica allora forse perché siamo più arretrati. In questo caso io ritengo che sia fondamentale per indirizzare opportunamente gli investimenti pubblici in formazione sapere ma la platea sottostante come è composta? Uno. Due. Se devo assumere qualcuno ma chi c'ho dentro sono due cose elementari ma insomma se proviamo a utilizzarla andiamo. Allora un dipendente pubblico non è un cittadino in quanto assurmenti specifici banale opera secondo procedure specifici disegno documentale a casa non esiste cioè che vuol dire documentale il protocollo di che? Arriva una mail a mia madre non è che la del protocollo e quando va su un social media un dipendente pubblico non è lo stesso Elio Gullo che su Twitter dice minchiate ok? Spero che lo sappia farete un corso ci sarà un intervento pure su questo non è un i-leader una delle figure riconosciute dall'iniziativa che ha promosso anche Agid qualche anno fa perché in realtà non fa quello lo so che dovremmo arrivare anche a quelli io non li chiamerei i leader diciamo chi guida la baracca deve conoscere quanto basta della baracca e non è specialisti T perché non lo sarà mai quindi delle tre possibili diciamo filoni di formazione che potrebbero scaturire noi abbiamo acchiappato il primo sono dipendenti pubblici banali siete convinti? Spero di sì scusate domande quando volete domande quando volete in genere non mi distrago allora quali? devo utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione tanto devi conoscere quali sono e poi usarli bene tutelare i diritti di cittadinanza digitale previsti dall'articolo 3 seguenti del CAD ma qua non è importante se il conoscere l'articolo 3 seguenti del CAD però che lo metta in pratica è tutto quello che vedete qua sotto non lo commento questi dati li avrete le aree di competenza abbiamo usato 5 aree di competenza dati, informazioni e documenti informatici quindi gli oggetti comunicazione e condivisione le azioni sicurezza perché se non metti sicurezza diciamo ti arrestano è fondamentale non è una battuta però diciamo è difficile non trattarla l'abbiamo trattata a livello opportuno per un normale dipendente servizi online è un po' un ultimo oggetto di prospettiva quello ci consente di ampliarlo poi in ogni area di competenza abbiamo preso delle sottocompetenze quelle vere e proprie quindi gestire i dati, informazioni e contenuti digitali produrre scritto con un altro corpo non so perché produrre e valutare gestire documenti informatici conoscergli open data e così via le domande sono a livello di quei elenchi puntati il sistema è adattivo nel senso che si accorge nel corso della sessione di test se chi risponde è uno basic intermediate o bravo e gli propone le domande del livello opportuno non c'è non c'è sotto il basic c'è nemmeno basic no no però ora io parlo a voi questa è la prima volta che parlo di un oggetto che oggi entra in funzione voi siete un'ottima palestra per me per voi per i vostri colleghi chi era qui lo scorso anno si ricorderà di questo se non c'eravate era uguale vi ricordate cosa avevo detto io questa era l'ultima strada che avevo fatto la penultima ragazzi l'ho ricordato per tranquillità le prime due che deve fare nel RTD tra le mille cose che deve fare ma quelle sono molte sono menate sono cose obbligatorie non c'è margine devo sono responsabile se è informativo fa gli acquisti grazie pure se sei un robot devi farlo ma cosa sono le cose non normate ma che dovresti fare uno tenere conto delle competenze di appartenenza inutile che proponi l'utilizzo dei droni a persone che non hanno il pollice opponibile non sanno guidare un joystick non glielo devi proporre giusto ma devi anche farlo crescere laddove rilevi che non sia adeguato qualunque cosa sia adeguato allora il resto ecco abbiamo ancora dello scorso anno ritengo che questo strumento serva anche a voi molti degli enti competenti erano già fatto una cosa di questo tipo quindi non devono fare perché lo dice gullo o funzione pubblica sono di un laico diciamo integralista laico però qua vi sono diciamo la definizione delle aree di competenza è fatta non con l'ottica senza offesa del venditore del corso di formazione che quindi fa le domande per rilevare il fabbisogno formativo che ti deve vendere tutto è chiaro io ho lavorato anche nella mia purtroppo lunga carriera anche dove si fa formazione e uno dei cruci che avevo era la composizione d'aula quando si fa un corso di formazione sull'argomento X non può essere lasciata al buon senso degli iscritti o delle amministrazioni se io devo fare un corso di formazione per riparare tubi idraulici se quello non sa nemmeno cos'è un tubo viene lì e disturba l'aula comporta che il docente deve abbassare il livello per tenere dentro pure lui e quindi annoia quelli bravi prima di fare una composizione di aula qualunque sia l'aula chi c'è dentro vediamo il livello magari l'aula è omogenea oppure devi dividerla in tre gruppi oppure ho bisogno di personale che per motivi storici sia o contingenti abbia molte competenze nell'area 1 e nell'area 4 dati, documenti, informati e servizi online quindi indipendentemente che siano medio o bassi negli altri tre se non c'ho i bravi in 1 e 4 ho un problema questo non è assoluto ogni amministrazione ha le sue esigenze io non ne voglio definire una per tutti non so se è chiaro non so questa è un po' la prevalenza forse dei maschi non lo so non voglio fare battute di genere però chi di voi è un patito come me quando ero piccolo di squadre di calcio o di figurine o di classifiche tutti ora vince lo scudetto la Juventus ma ciò posto vince chi ha più punti ma vi sono altri numeri nelle classifiche chi fa più gol in caso fuori chi giusto il numero dei risultati e così via poi vince chi ha più punti quindi l'indicatore si schiaccia su chi fa più punti ma vi sono altri indicatori perfetto questo tipo di assessment o di autovalutazione più che assessment perché ciascuno valuta se stesso come persona è un ente alla valutazione complessiva non indica il vincitore cacchio io sul punto 1 sono al massimo quindi batto il comune di Crotone che invece non vuol di nulla dipende che deve fare cosa vuol fare cosa si aspetta di fare anche rispetto agli ambienti in cui si trova non so se è chiaro quindi abbiamo provato a fare uno strumento che fosse rigorosamente non indirizzante non stai indirizzando indirizzando verso se non hai almeno il massimo o il medio su tutti sei messo mare no dipende dipende cos'è chiaro poi vedremo qualche esempio quindi vi faccio giocare come si entra qualche domanda finora così qua è banale quello che abbiamo fatto ragazzi ve lo dico tranquillamente è un'operazione complicata dove la complicazione è stata scegliere questi qua quando fai una scelta togli non metti metti sono buoni tutti devi togliere cosa tolgo quindi noi abbiamo provato a utilizzare strumenti esistenti ma abbiamo dovuto completamente buttare e ricominciare da zero quasi per cui anche io che pur mi riconosco in quello che in qualche modo ho contribuito a fare mi aspetto che da qui a Natale quando i primi 100 o 200 dipendenti lo utilizzeranno troverò che ho sbagliato completamente cioè ora vedete le domande che ho immaginato che la competenza base fosse di un livello X magari la competenza base è lassù qui sono tutti avanzati quindi il sistema non mi dice nulla o viceversa che tre quarti i dipendenti pubblici non raggiungono nemmeno il base quindi che ho messo anche il livello medio avanzato come si dice a Roma me lo don faccia perché in realtà non tiro fuori nulla per cui quando ne parlo in questi giorni questa è la prima volta in cui ne parlo in pubblico ma i miei collaboratori Marras è uno di questi del Formez che poi pregherò di segnare sul palco se ce la fai? buono tra poco ricordami di darti lo spazio Formez si sta aiutando a fare una serie di cose tra cui quella fondamentale che è questa dove sta? è erogazione della formazione quindi creare moduli formativi in dry learning da offrire dopo l'esito della autovalutazione allora è anche lì appunto un problema che noi ci poniamo non avendo quasi nessuno fatto una attività di questo tipo tra le amministrazioni virtuose è il livello medio a cui collocarsi qual è? è Aranzulla che io odio o un qualcosa di migliore non lo so non lo so nemmeno io proviamoci ok? allora la mia proposta che faccio a voi avendone titolo perché ancora ne ho titolo è chi di voi vuole allora intanto chiariamo dove siamo arrivati siamo arrivati che questo sistema entra in produzione questo lo so che è una schermata ma insomma adesso giro e vi faccio vedere il vero spero funzioni noi partiremo con un numero di amministrazioni pilota in cui non so se ci siete voi ok? perché vogliamo provare poco alla volta partiremo su due fronti diversi uno piccoli comuni quindi dimensione medio piccola uno perché non vogliamo avere un problema gestionale banale 300 geni che hanno perso la password e mi chiamano voglio averne pochi in questo momento voglio avere più amministrazioni con pochi utenti che un grande con 20.000 dipendenti perché la cultura per fare un esempio non stupido due degli enti che vorrebbero subito partecipare sono due enti previdenziali o assicurativi IMS e INAIL dove peraltro ho lavorato la cultura media là dentro è diversa da quella del mondo pubblico normale universitario piuttosto che non si può dire universitario comuni ASL eccetera è molto diversa perché sono enti che danno servizi per definizione quindi la cultura IT è medio alta lo sto dicendo che funzionano bene sto dicendo che è medio alta quindi quella popolazione ha una cultura aziendale ben definita non avrò grande differenza tra il dipendente IMS di Aosta e di Crotone parlo in Calabrese sarà una piccola differenza mentre e quindi non sarà molto utile per me capire come dico per me per IMS era utilissimo quindi IMS e INAIL sono due di quelli che sperimenteranno questo ovviamente ma a me interessa di più avere realtà sul territorio dove danno servizi alla persona o alle imprese direttamente dove i vincoli di bilancio e così via rendono difficoltoso l'accesso alle risorse di cui dispongo l'intiprevidenza o l'inizio dell'entrata insomma là dentro le risorse ci sono hanno partner forti dal punto di vista IT immaginare soluzioni avanzate fare le app gli viene naturale che stiamo sperimentando nulla io non voglio vincere facile non mi interessa manco vincere non so cosa vuol dire vincere vorrei capire quindi partiremo con una serie di amministrazioni piccole non so quale delle vostre sono comprese direi nessuna quello che però potremmo fare perché io ritengo ora parlo a voi non sono un venditore la prima volta che feci il colloquio all'IBM mille anni fa erano anni 80 mi mandano a Milano faccio il colloquio insomma chi a voi l'ha fatto sa che cosa è finisce il capo di quella baracca dice ok tutti fuori Gullo c'è lei non si muova pensato ho disturbato quindi escono tutti la sala è grande così io rimango lì dove ero seduto arrivano altri due mi si avvicinano Gullo lei è venuto qui per fare il colloquio all'IBM certo fin qua diciamo siamo consci però come sai il nostro percorso prevede due test e poi il colloquio finale eccetera però per come ha risposto noi vorremmo proporle un lavoro subito mi dice bene non volevo lavorare in IBM mi serviva andare a Milano qualche giorno e quindi dicono però se lei ha intenzione di lavorare nel settore della produzione quindi sviluppo software eccetera il posto per lei non è qua a Milano ma è a Roma mi dice vado a Roma noi lavoreremo qui a occuparsi della parte di vendita io mi cazzo con abese io non vendo nulla no calma mica devi vendere aspirapolvere a casa vende sistemi di bienet io non vendo ho una rena informatica non vendo non vendo e li mandai diciamo in orbita giustazionaria non so perché ho detto questo ma tra poco me lo scoprirete da soli il sistema che noi abbiamo fatto è pronto per essere utilizzato voi avete un ruolo qual è il ruolo non tanto testarlo su di voi che ve lo chiederò giusto per patti chiara mi si sa lunga io non ho modo di vedere il risultato del vostro test nemmeno la vostra amministrazione ha questa possibilità ok è nella policy private ma la sto dicendo in italiano ognuno di voi o di chiunque farà il test avrà il suo risultato se lo tiene in saccoccia ha un profilo definito sulla piattaforma con l'utente password se lo guarda quanto vuole può fare più volte il test inizialmente eravamo stati cattivi il test una sola volta boom poi ti fai un po' di formazione e poi rientri un po' troppo duro abbiamo aumentato non mi ricordo se a 3-5 volte la possibilità di utilizzare la piattaforma e fare il test il test è anche abbastanza lungo perché quelli bravi rispondono alle domande base e intermedie avanzate quindi i bravi durano molti minuti i meno bravi escono entro mezz'ora questo è un indicatore c'è il segnalibro mi sono scocciato di continuare posso fermarmi e continuare sì queste menate non ve le devo dire a voi allora io qua sono con voi per dire che cosa mi aspetterei a che qualcuno di voi dicesse sì voglio sperimentarlo io glielo do gratis due per avere da voi dovete farmi da tester è un do to death non sto dicendo che è fatto bene anzi mi servono dei tester buoni e i tester buoni sono quelli che rischiano quelli che guidano le tesla a volte si schiantano contro il muro perché saranno belle ma a volte schiantano pure le tesla quindi prima di metterli in produzione il sistema mentre qualche dipendente di qualche comune non lo sa che fa il test però un po' di tester tra virgolette controllati per cui se voi volete a fine lezione vediamo come ci accordiamo mi date un minimo numero di credenziali e io vi abilito e voi centrate poi il patto è che domanda pari una lingua che non capisco allora rispondo in italiano no scusami tu conosci cose che io non conosco quindi sono io la persona in difficoltà allora nella prima versione rispondo da funzione pubblica non da cullo nella prima versione del progetto cioè la mia di qualche mese fa era ma ci mancherebbe altro che segreto il livello di competenze del dipendente deve essere pubblico perché se devi indirizzare la mia persona e fargli fare un cacchio di corso se non so se io sono bravo o scarso che ce faccio noto ok però questa possibilità noi la vorremmo lasciare a ciascun dipendente di scegliere se far vedere il risultato al suo capo nella fase attuale io sono per no mentre l'unico dato disponibile è quello aggregato ho 100 dipendenti su queste 5 aree di competenza come si collocano e facciamo il famoso grafico perché ritengo che indipendentemente dall'interesse individuale vediamo quanto è bravo lui vabbè glielo chiedi a lui il suo capo basta e avanza per capirlo e ma l'ente come è messo l'idea è quella di dite a me continuo l'idea è quella di sommare tante individualità per avere una media dell'ente non serve per indirizzare direttamente la tua professione futura non è questo l'obiettivo ovviamente ho immaginato questa soluzione non perché sia geniale per abbassare la soglia di paura perché immagino che un dipendente medio che si vede ha 48 anni 53 ma che caspita vogliono questi vedete quanto sono bravo e questo cosa comporterà bene non comporta nulla non comporta nulla cosa fa l'ente con i suoi dipendenti lo fa già non sarà questo che indirizzerà la mia idea era molto destrutturata non ho ancora parlato con gli altri responsabili della formazione o del personale degli altri enti ci vorrei parlare poco io ho un approccio diciamo un pochino anarchico web based ognuno di noi ha una postazione anche questo qua la può utilizzare da casa col tablet sul pc la usa dove gli pare non deve usarla in ufficio può sapere quanto ne sa prego e dopo che lo sa che fa quel che gli pare tra cui farsi formare in aula di persona o a casa in corsi online che noi metteremo le può fare da casa se l'ente pensa che c'è una carenza di competenze sull'area 3 che è quella sicurezza e vuole formare tutti i dipendenti perché ha una carenza di può farlo tranquillamente questo strumento dice all'ente che il livello medio di competenze è questo ovviamente noi daremo anche classifiche o se volete confronti sulle cinque aree tra amministrazioni omogenee in modo tale che giustamente il comune di Crotone che è il mio ideal tipo si deve confrontare con quelli simili per dire cacchio ma io come sono messo cioè sono l'unico a essere così o tutti i comuni sono in questa situazione non che ma il comune è mezzo gaudio ma per indirizzare cioè ho una carenza io oppure ho anche a livello più alto quello per cui serve la funzione pubblica questo oggetto per indirizzare le politiche di assunzione cioè noi abbiamo carenze in questo momento tutti coloro i quali fanno progetti o analisi di fabbisogni anche quelli più bravi non hanno purtroppo il set informativo necessario per sapere uno la domanda del territorio di servizi qual è domanda in senso lato faccio ancora un esempio banale ma voi consentitemelo ecco ne parliamo l'ufficio tecnico del comune di Venezia 200.000 abitanti ora Venezia è un unico mondiale ma l'ufficio tecnico del comune di Venezia 200.000 abitanti non so se in modena 200.000 facciamo 200.000 così ci troviamo dalle balle secondo voi la composizione numerica e di competenze deve essere uguale ma col cavolo non può essere uguale concordate? gli abitanti sono uguali ma chi se ne frega quella sta sull'acqua e quella sta in piena padana sono diversi tutti i comuni della fascia penninica sismici devono avere un ufficio tecnico del comune come quello di un comune non sismico ma no ma assolutamente no ok? questa è la domanda soltanto rispetto alla sostenibilità del suolo le altre domande non sapete quante sono quindi normalmente cosa fanno le amministrazioni? sedia vuota o sedia piena mi si sgombra l'ufficio ho tre sedie vuote ne assumo tre grazie bene e l'automazione la fatturazione elettronica ci serve ancora quel numero di soggetti che lavorano in attività amministrativa o contabili? direi di no ma lo dico da marziano direi di no assolutamente noi perché abbiamo un sacco di persone che fanno attività manuali? perché i sistemi documentali che utilizziamo fanno schifo posso dirlo? sì avendo scritto le regole tecniche il protocollo informatico nel 99-2000 lo posso dire i sistemi che avevamo immaginato non sono nemmeno lontanamente visibili presso di voi quindi molti di voi usano il protocollo per fare a mano cosa che una macchina farebbe meglio di voi ma non lo facevamo a mano bene è sensato è una idiozia se avessimo le competenze adeguati come committente il personale sapesse usare gli strumenti questa attività sarebbe sparita l'esempio di prima del telepass continua a valere non so se avete colto diciamo la sottile ironia i casellanti a casa non ce l'ho con i casellanti ma per registrare che la mia macchina passa da qualche parte basta una telecamera è un bip che mi serve un uomo o una donna direi di no allora il sistema consente di accedere per cui quello che mi servirà di voi avete già capito quali sono i primi tre campi fate gli informatici qui con me ok nome cognome codice fiscale e il quarto è la mail la mail ce l'ho già gli altri mi servono si entra e queste sono ora entriamo quando entri nel test ti compare a destra il timer che ti fa paura 60 secondi soltanto 24 ore fa la mia responsabile ha chiesto Elio senti però lo portiamo a due minuti perché le domande sono toste faccio no deve essere breve sono sufficientemente fatti in modo tale che non è possibile per quasi nessuno anche bravo di aprirsi un secondo interfaccio o bravo di andare su google e avere la risposta non ci provate provateci ma non serve cercare di capire cosa è anche perché le domande sono a risposta multipla se riesco a farle funzionare ecco così cosa soglia pendeta e scegli e questa è abbastanza facile facile perché c'è un rigo se erano tre righe per ogni risposta su google non la trovi oppure sono così eh a queste qua google non serve a niente google o l'amico bravo accanto o la sai o non la sai poi ci puoi arrivare per induzione però prendi in giro te stesso e non so quanto può servire noi non ce ne facciamo nulla noi funzioni pubbliche questa è una vera domanda non so qual è quella corretta voi si? eh poco spirito tra poco lo farete ci siamo? ho finito domande prima che faccia brutta figura scusate in senso chi ha lì? moglie meno a questo chi è? ecco no in senso perché speed ha una penetrazione territoriale non sufficiente e non è un obbligo per i dipendenti avrebbe di per sé scremato le comprensioni del personale attestando una diversità mostruosa in questa fase speed ci sarà quando avremo copertura del 100% in realtà in questo momento volevamo utilizzare il sistema più banale del mondo la domanda è pertinente ma siamo lontani da prego dei due tipi che ho visto scelta multipla e combinazione di attenzione il sistema consente altre tipologie qua noi stiamo utilizzando la prima versione è proprio la prima anzi la zeresima per testare anche io voglio testare se funziona non funziona a proporre domande non serviva Google la fascia cemenza e uno quanto fitta l'inglese con le conoscenze disponibili normalmente io non ho fatto un pretest vediamo super giù le competenze del personale pubblico qual è non la so la facciamo qua in diretta allora molte delle osservazioni come questa che lei mi ha fatto e che mi farete io ve ne sono gratissimo però in questo momento il mio obiettivo vero è tararlo nella sua diciamo forma attuale per farlo sembrare utilizzabile non per farlo sembrare per farlo utilizzare e se ecco vediamo se funziona cosi fiscale mio lo sapete? G quanti anni ho? puoi leggere cacchio cosi fiscale qua non so perché c'è già una password dovrebbe essere la mia quando vediamo se funziona bene se no vuol dire che morirò che succede? scusate ma scusate ma ah non vedete? che devo fare? devo ammazzare il powerpoint? si lo ammazzo basta questo? chiudi tutte le finestre sparisce ah scusate mettevo la password ho più di 50 anni infatti non capivo perché ho più di 50 c'è un numero ok rimani connesso login io dovrò fare login voi dovrete fare registrati insomma sarà un po' così facile se funziona lo vedremo se non funziona mi boccerete e io sto con voi inizio il test allora prima di cominciare leggete ragazzi prima di cominciare vediamo com'è il test cambia e si adatta non fate casino potete ripetere più volte il test le domande sono do un minimo di 33 al massimo di 113 che è un numero però che farò cambiare che sembra che devi chiamare il caramba quando hai finito durata 60 secondi quindi il bravissimo se pianta 113 minuti non fate questo test sbagliate qualche domanda a chiunque pur io che l'ho fatto le sbaglio poi le aree di competenza sono queste che vedete e colorano quindi date informazioni comunicazione divisione sicurezza qua penso che non so perché usiamo lo schermo perché abbiamo chili servizi online sono digitale ora se volete entriamo entriamo ne faccio allora chiarisco il sistema comincia subito le domande sono 113 ma vengono sottoposte su un panorama molto maggiore quindi se ti metti accanto al tuo collega le domande che farei sono diverse quindi non ci perdete troppo tempo questa verrà banale non voglio dare questo è un randomize per ogni area le aree di competenza sono queste qua che vedete qua sotto ve le faccio vedere buoni dati informazioni documenti informatici comunicazione condivisione sicurezza eccetera per ognuna di queste aree c'è un numero variabile di domande non so nemmeno io quante sono anche perché è dinamico rispetto a quello che voi risponderete quindi io so quanto è il massimo per area ma non è di nessun interesse più uno è bravo più è costretto a rispondere a domande il sistema però quando passi da un'area a un'altra cambia cambia il colore di quel fregnetto lì passa da documenti a comunicazione eccetera e te lo fa capire e tra l'altro per la versione attuale puoi salvare soltanto al cambio di area quindi se uno abbandona prima quello che ha fatto lo brucia e si è bruciato una possibilità vi consiglio di andare avanti quel dato lo sapete soltanto voi non vi preoccupate se la prima volta rispondete male chi se ne frega è vosso il test non lo vedrà nessuno in fondo al test vedrete l'esito ora non lo faccio devo stare qua almeno mezz'ora pur sbagliando tutte dove sta mezz'ora e non si può fare lo farei subito inizia il test andiamo quindi a maggioranza si risponde rischio io pronti via si vede calmi perfetto leggo quale tra le seguenti affermazioni è una possibile definizione di dati e informazioni ditemi quella risposta io non guardo ho il tempo 40 sembro quei fessi della tv 36 1 concordi non lo sto guardando chi è 1 chi è 2 ha vinto 2 non lo so se è vero clicco 2 clic cacca quindi seconda alla fine siete RTD pensate agli altri devo portarlo a 90 ok cosa sono i motori di ricerca rapidi presto 1 vado prego no non sapete se è giusto è normale un test confermo ragazzi documento informatico cos'è questo è 1 bene si si ragazzi questo si cambia il trading sto facilitando non si vede la domanda un attimo che dice qua quali domanda base ACD ACD AC2 confermo ora smetto ok vi piace questo cosa siamo ancora al basic prego ragazzi siete RTD dovete leggere velocemente fa parte del ruolo cominciate non so leggere sto scherzando lasciate stare che qua lo schermo è tale per cui dovete fare su e giù su ipad e su iphone si fa io l'ho fatto su iphone in treno per giocare ora abbandono e quindi mi brucio una possibilità lui mi dice attenzione guarda che esito grande attenzione e io abbandono perché sono uno tosto e voglio abbandonare abbandono sa so fregato questo mi voleva dare risultati se avessi finito avrebbe detto ecco accanto a ciascuna area mi dava l'esito base medio o avanzato o grado di si questo te lo scarichi in pdf te lo teni in saccoccia ce l'hai sempre qua dentro tranquilli solo voi lo vedete Salvatore vieni allora quello che abbiamo qualche minuto ho invitato che si è diciamo il format ci aiuterà dimmi scusa allora brava gli informati hanno domande che però se non la facevi era meglio allora ti rispondo subito qua vi ho fatto vedere soltanto il link per entrare quello che dirò a voi per mail per quelli che vorranno partecipare in realtà si aderisce per ente e l'ente che aderisce giustissima domanda stavo scherzando noi daremo in questo momento ho fatto due opzioni all'ente per poter entrare uno quella che io preferisco l'ente compila un form e lo firma per dire ok sono d'accordo una stronzatina diciamo amministrativa e mi dà il nome del dominio at comune.roma.it stop tutti quelli con quell'account possono entrare quindi l'operazione di chi avviso i miei fatti i suoi voglio avvisare prima le donne poi gli uomini prima gli informati avvisa chi te pare io abilito il tuo comune e tu entri ognuno di loro ha tre possibilità eccetera seconda possibilità per quelli più occhiuti ma ci sono no dico io i nomi l'ho lasciata per comodità di patria ma non sono favorevole diciamo come funzione pubblica non penso ci siano categorie che è meglio che non sappiamo cosa sanno se uno non lo vuole fare non lo fa non è che è obbligatorio farlo però se il mio amministrazione ha aderito fanno quando ti pare nel vostro caso utilizzerò la seconda mi creo una finta amministrazione quindi violo i palla grande la chiamerò rtd bologna 2019 vi azzico tutti dentro perché voi non siete compito non so se è chiaro quindi io soltanto avrò una statistica perché non vedrò le vostre risposte su questo gruppo di 50 come cacchio si colloca spero medio alto se no vi farò venire qua il prossimo anno ma sui ceci in ginocchio vieni vada quante domande vieni che palle si però avanti fatemi domande serie bellissima brava brava certo che è prevista no aspetta calmati tutti chi ma aspetta non c'è nessun controllore il sistema è no l'rtd non può guadare risultati buoni 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 avete questo ruolo nell'amministrazione io non do ruoli se lo avete nella vostra amministrazione lo avete pure qua dentro se qualcuno del personale dell'amministrazione in cui lavori fa un corso su non so che cosa poi l'esito te lo presenta domanda una domanda innocente se lo può fare lì lo può fare qua dentro io non creo ruoli io aridong se sei referente dell'amministrazione non lo puoi vedere dipende dall'amministrazione chi nomina certo sì sì scusami non volevo essere scortese è una scelta che non dipende da gullo dipende dall'amministrazione comune di cortone dice che salvatore marras che casualmente è rtd è anche il referente per l'amministrazione quindi vede chi ha fatto cosa tra l'altro qua non lo sto facendo vedere se no perderemo troppo tempo il referente può anche sapere perché lei nomini vede chi è entrato chi si è solo registrato e non ha fatto nulla chi ha perso la password può andare a premere un tasto lì ma una mail di per favore ti vuoi rientrare quello dice ho perso la password e la resetta queste cagate qua scusate ci sono però in questa fase io ci arriveremo a livello di profondità tu è correttissimo scusate non volevo essere scortese in questa fase però mi interessa sapere direttamente da voi come utenti veri che non si è uno sbaccato normale attenzione adesso non so chi di voi fa attività amministrativa quindi potrebbe benissimo essere che su ambiti meno IT-based voi non siate avanzati non è un reato tutto è chiaro non è un reato nulla mi aspetto che la risonazione documentale perfetta la conosca anche un buonissimo informatico ma non deve conoscerla meglio di un buonissimo amministrativo quindi può accadere questo qua mi interessa capire se mediamente su una popolazione variegata voi non lavorate insieme senza e accanto 9 su 10 no vi conoscete qua ogni tanto come si colloca cioè acchiappiamo base intermedio o solo avanzati se non lo so e poi avere da voi indicazioni di cambia questo il tempo è scarso questa domanda è ambigua le domande hanno soltanto una corretta e tre sbagliate o quattro sbagliate non c'è due simili ci sono altre possibilità noi le abbiamo messe in piedi ora è esattamente così ora però Marras vieni qua se no me ne vado Marras deve fare un compito in grato e lavorare già con me è in grato ovvero per ciascuna di quelle aree per tre livelli di competenza le aree sono 11 11 11 item livello base intermedio avanzato fate voi la moltiplicazione proporre moduli formativi online che consentono quando uno ha finito di fare il test ed è intermedio sulla competenza 1.3 gli dice guarda per diventare avanzato ho questi corsi quale vuoi fare lui clicca ed entra nella piattaforma di corso fa il corso quando vuole ritorna dentro e rifai il test e la piattaforma sa che lui ha fatto il corso di quindi gli consentirà di votare l'efficacia del corso e la voterà meglio se risponde alle domande cacchio rispondo quindi mi è servita e questo servirà all'utente né più uno di dire che il corso che ha fatto Filippo fa cagliere perché non mi dà informazioni invece questo è buono ci hanno dato i 5 minuti quindi parlo 4 per dire questo Elio vi ha spiegato che ci sono queste 5 aree di competenza nella prima ci sono 3 competenze diverse nelle altre ce ne sono 2 quindi il totale fa 11 fin qui i conti sono giusti i 3 livelli base intermedio avanzato fanno 11 per 3 33 che sono gli anni di Cristo ma anche il numero di moduli che stiamo sviluppando per essere corrispondenti con questa articolazione del syllabus articolazione che potrebbe cambiare nel tempo Elio l'ha detto siamo in una materia in evoluzione siamo con uno strumento in sperimentazione quindi questi moduli potrebbero diventare di più di meno quindi stiamo cercando comunque di mettere a disposizione per ognuno di queste competenze per i diversi livelli un modulo composto da Learning Objects siccome i tempi per fare tutto questo sono stretti perché entro fine anno dovremmo avere a disposizione questi materiali siamo partiti con una modalità molto elementare molto direi quasi povera faremo delle pillole formative di una decina di minuti ciascuna che però diventano 113 esattamente come le domande che uno si può trovare se fa tutte diciamo tutti i livelli nell'assessment che si combineranno in moduli e che ognuno potrà fruire a seconda del livello di uscita dell'assessment da formatore dico che questa ovviamente è un'offerta di base è un'offerta di base che spero che già dall'inizio dell'anno prossimo renderemo più ricca dal punto di vista multimediale quindi sono learning object molto elementari anche dal punto di vista della ricchezza multimediale che si arricchiranno io spero anche col contributo delle amministrazioni perché come ci saranno privati che offriranno i loro corsi diventa importante che anche amministrazioni che investono nella formazione dei propri dipendenti scelgano anche di lavorare in maniera collaborativa e condivisa quindi coproduciamo delle cose evitiamo di fare due volte magari le stesse cose arricchiamo gli strumenti che abbiamo ma soprattutto qua secondo me diventa importante che i responsabili della transizione digitale lavorino insieme ai responsabili della formazione che queste attività entrino nei piani di formazione degli enti e che ci siano anche iniziative che non si limitano al corso online cioè che si costruiscano dei percorsi dove magari la formazione online diventa la base il mattone condiviso ma si fanno anche attività più ovviamente vicine anche alla realtà dell'amministrazione sono corsi che un po' come l'assessment non tengono conto delle differenze delle particolarità delle singole amministrazioni tutto questo va affrontato con una formazione che si aggiunge si arricchisce ma soprattutto facendo diventare questi sistemi di formazione sistemi di formazione permanenti cioè non basta una volta l'assessment una volta il corso ci deve essere un investimento continuo perché questo cambi e io spero che anche gli strumenti di formazione nel tempo siano più ricchi e più vari finito 4 minuti grazie